Una notizia che era già trapelata il giorno prima allo sgombero del mercatino etnico di Pescara da parte delle forze dell'ordine è avvenuto con un'operazione iniziata alle 4 del mattino e proseguita per molte ore. All'opera circa 200 uomini tra guardia di finanza, carabinieri, polizia, municipale, forestale e digos. Sono stati i mezzi di attiva a provvedere alla rimozione di banchi e cianfrusaie varie. La strada è stata chiusa in via preventiva fino alle 8.30 di stamattina. La comunità senegalese dopo l'operazione delle forze dell'ordine si è presentata con un presidio sotto al palazzo di città in attesa di un confronto con il sindaco. Al centro delle loro richieste c'è l'ufficializzazione della nuova area individuata per il trasferimento dei regolari. Il luogo è quello individuato da tempo, è il terzo sottopasso murato della stazione. Attendiamo davvero ad oras una via libera da parte di Ferrovie dello Stato. E poi il nuovo mercato etnico dovrà essere un luogo di integrazione vera, un mercato in cui non si vendono scarpe contraffatte, ma prodotti tipici provenienti da culture diverse dalla nostra. Nella giornata di oggi appunto si è compiuto questo sgombero di un'area che negli ultimi vent'anni era cresciuta in maniera diversa rispetto alle finalità per cui era nata. E ciò ha fatto sì che il comparto sicurezza e giustizia di questa città in qualche modo chiedesse un intervento al sindaco di concerto naturalmente con tutte le forze dell'ordine per un'operazione di polizia visto che ci sono indagini e accertamente o di reati gravi commessi in quella zona. Nel documento firmato il 17 maggio dal sindaco Alessandrini si legge Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per eliminare gravi pericoli del decoro urbano in particolare dell'abusivismo commerciale e dell'illecita occupazione di suolo pubblico. Tra le pagine si legge anche che dopo l'ultima seduta di mercoledì 20 aprile avvenuta con il prefetto di Pescara Francesco Provolo quest'ultimo ha ritenuto che l'acclarata illegalità che regna nello spazio occupato ormai ritrovo di merce contraffatta o ancor peggio refurtiva impedisce ulteriore tolleranza e a chi critica l'operato del primo cittadino paragonandolo anche al leghista Salvini Marco Alessandrini risponde così Integrazione significhi anche e soprattutto il rispetto delle regole comuni civili di convivenza la sicurezza, la pubblica incolumità sono concetti su cui in qualche modo non ci possono essere mediazioni Per usare le parole del prefetto noi non ci possiamo permettere una scampia nel centro di città cioè un luogo in cui le forze dell'ordine dello Stato sono scacciate in cui si commettono traffici illeciti che non sono naturalmente solo la vendita di scarpe valse ma sono ricettazione, traffico di sostanze estudevacenti, prostituzione minorile e tutto questo campionario di cose che non può rendere indifferente l'apparato dello Stato che comunque deve in qualche modo esprimere la propria legittimità